Buongiorno Damiano, ciao. Buongiorno, anzi salve a tutti bisogna dire, così non abbiamo finiti temporali. Salve a tutti per questa nuova puntata di Boom! Esplodiamo un libro, rubrica un po' sovversiva possiamo dire in un certo senso, almeno nel titolo. Ricordiamo che questa è una rubrica in cui andiamo ad approfondire alcuni testi secondo noi importanti che possano ampliare le teorie del nostro laboratorio di gioco semiserio per la trasformazione del mondo. Se ti interessa approfondire e iniziare a giocare le trovi qui sotto il link per accedere. E quindi Damiano siamo alla terza puntata e la puntata di oggi è una puntata un po' diversa dalle altre, nel senso che parleremo di un saggio, di un libro piccolino, come dimensioni, ma densissimo rispetto a quello che contiene. Parliamo di questo libro qui, che adesso vedete al contrario, del grandissimo Federico Garcia Lorca, Gioco e teoria del Duende, della biblioteca minima di Adelphi, casa editrice che non ha bisogno di nessuno. Si vede dritto comunque. Ah, vuole di dritto, benissimo. Questo qui è un saggio di una trentina di pagine, è un saggio poetico. Federico Garcia Lorca, forse lo conosciamo tutti, era un grandissimo poeta e questo è un saggio in cui lui parla del gioco e di questo misterioso Duende in forma proprio di piccolo saggio poetico, scritto quindi per spiegare che cos'è il Duende, ma con una densità di poesia ad altissimo tasso artistico. Ma come al solito mettiamo un po' di... una specie di mappa, mappa brutta, però con le mappe... a me piace lo stile di queste mappe. C'è presente le mappe, non so se hai mai visto le mappe che disegnavano alcuni sciamani quando facevano il viaggio, no? Fatte così con gli omini stilizzati, ecco, l'idea era una cosa di quel tipo. Il libro, la prima cosa che possiamo dire prima di entrare dentro questa teoria di Federico Garcia Lorca è che questo libro fa parte di alcune conferenze che lui fece nel 1933, quindi primi anni trenta del novecento, in Sud America. Mi sembra tre conferenze nel Sud America e poi mise insieme queste trenta pagine. La cosa interessante è che esistono due versioni del libro. La prima si chiama Teoria e gioco del Duende, che poi lui volle cambiare, mettere prima il gioco e poi la teoria, proprio perché per dare il peso diverso alle due parole, cioè viene prima il gioco e poi la teoria. E questa cosa mi piace molto perché la trovo vicina anche al nostro modo di giocare nel laboratorio. Prima si gioca e poi ci costruiamo attorno alle teorie. Questo che stiamo facendo in queste puntate è proprio questo tipo di ampliare, no? Il gioco, cercare di capire. Così anche il gioco per la trasformazione del mondo in un certo senso. Cioè le spiegazioni è più facili che vengano dopo rispetto a prima, giusto Antonello? Guarda Damiano, secondo me è proprio così. Non so se questo è solo per il gioco così, oppure in generale, per la teoria in generale. Cioè prima viene la pratica e poi la teoria. Su questo entreremmo nel campo dell'epistenologia praticamente per poter tirare fuori questo argomento. Però nella nostra esperienza, nel nostro laboratorio che stiamo costruendo in questo anno, questo è. Prima si gioca e poi dopo vengono fuori in maniera quasi... non con una ricerca forse innata. Questo librocino qui è venuto fuori da solo. Poi ho detto... mi sono sorpreso che Federico García Lorca avesse scritto un libro così bello sul gioco. Ma entriamo proprio un po' dentro per cercare di capire se ci dà qualche indicazione, se ti può dare qualche indicazione utile alla... Io ho scritto un sottotitolo come ho detto anche nelle altre puntate. Questi boom sono anche delle libere interpretazioni. Cioè all'interno di questi viaggi che facciamo dentro i libri ci sono dei pezzi che sono libera interpretazione mia, quindi di cui mi assumo la responsabilità. Io qui ho scritto come sottotitolo una teoria della creazione artistica e aggiungendo anche come una delle parole chiave l'ispirazione, perché secondo me quello che c'è all'interno di questo libro è proprio una teoria dell'ispirazione. Parto dalla fine. Federico García Lorca nel primo pezzo del libro spiega un po' che cos'è il duende in forma poetica e noi ne parleremo fra poco. E poi alla fine fa questa... butta lì questa divisione che io trovo sorprendente. Un po' perché appunto sui triangoli ci stiamo lavorando in queste tre puntate viene spesso l'idea del triangolo come schema di gioco. Anche qui ce lo ritroviamo, anche se non l'ho rappresentato in maniera così geometricamente lineare questo triangolo. Comunque lui dice questa cosa. Dice la creazione artistica può venire da tre fonti diverse. L'ispirazione artistica può venire da tre fonti diverse. E lui dice la prima è l'angelo, la seconda è la musa e la terza è questo duende misterioso che ci porterà a fare un viaggio anche pericoloso fra poco. Qui entriamo in una zona pericolosa. Questa zona rossa è pericolosa. Ma partiamo da qua. Lui dice l'angelo. L'angelo fa questo schema e dice secondo me l'Italia è il paese dell'angelo, la Germania è il paese della musa e la Spagna è il paese del duende. Dice questo nel 1933. Interessante anche questa cosa qui. Perché l'Italia è il paese dell'angelo? E' chiaro che poi questa, come tutte le teorie, come tutti gli schemi di questo tipo e anche García Lorca lo dice, è sempre un misto. Cioè non è mai una ispirazione pura. Ci sono degli esempi di puro angelo, di pura musa e di puro duende. Però ci possono essere anche degli intermedi, chiaro, no? Tra questi tre. Quindi l'angelo e la musa, dice Federico García Lorca, hanno la caratteristica che è un tipo di ispirazione che viene da fuori. Viene da fuori. L'angelo viene dall'alto. Lui parla di vocazione. Io me l'immagino come un canale. Dalle vette dello spirito ti arriva l'ispirazione. Lui dice che l'Italia è il paese dell'angelo perché fa tutti esempi che vanno nella pittura rinascimentale. Per esempio cita Raffaello, cita tutte quelle opere in cui anche il soggetto, l'angelo entra anche spesso come soggetto di quelle opere, no? Quindi una sorta di ispirazione luminosa dall'alto. Quando io ho sentito, quando io ho letto questa definizione, ho pensato anche a quello che abbiamo detto qualche puntata fa, per esempio riferito a Franco Battiato, no? Che alcune delle sue canzoni, lui racconta che le ha scritte sia il testo che la musica come proprio una ispirazione divine dall'alto, senza nessuno sforzo, cioè proprio aprendo un canale e facendosi tramite di questo canale. Questa è un'altra caratteristica importante di differenza fra angelo musa e duende, che l'angelo e la musa hanno bisogno di un'apertura, quindi proprio di aprire un canale e non comportano uno sforzo per tirare fuori poi l'espressione artistica, ma più che altro una pulizia, fra virgolette, del canale, ecco, per usare dei termini un po' metaforici, anche questi qua miei, non di García Lorca. Invece la musa, che io qua ho disegnato in rosa, forse poi ci ho pensato, rosa forse non è il colore, è più adatto, forse è qualcosa, potrebbe essere bianca come colore, poi questa cosa del colore la teniamo lì di lato perché forse ne potremo parlare. Siamo tra il rosa e il bianco, dai, perché comunque è estremamente femminile, per cui, sì, tra il rosa e il bianco, sì, il candore femminile ci sta. Ci potrebbe stare, infatti in maniera intuitiva l'ho fatto rosa senza pensarci più di tanto, poi ragionandoci un po' rifatta di grigio o bianco. Lui dice che la musa è rappresentata dall'arte, da un certo tipo di arte tedesca, perché qual è la caratteristica della musa? La caratteristica della musa, anche qui, è qualcosa di astratto all'uomo. Lui parla di una dimensione teorica, astratta, razionale, fa l'esempio dell'arte neoclassica, in cui sono importantissime le proporzioni fra le cose all'interno della rappresentazione. Dice l'esempio lampante di questo tipo di ispirazione l'uomo vitruiano di Leonardo, in cui la proporzione fra le parti, quell'idea astratta, teorica, di razionale, è fondamentale. L'interessante è che lo chiama musa perché denota, anche se non lo spiega tanto all'interno di questo libricino, però la chiama musa perché chiaramente viene dalla Grecia antica, quindi da quel classicismo lì, poi dopo porta al neoclassicismo tipico della Germania. Ho fatto uno schema squadrato per dire l'importanza delle proporzioni. Anche la musa, come l'angelo, è un tipo di ispirazione che, essendo appunto una forma di astrazione, non comporta uno sforzo, forse comporta uno studio, ma non comporta una lotta. Ecco. L'ultimo pezzo che lui... Sai cosa pensavo? Che così... Prendiamola anche come scherzo, dato che stiamo giocando, che paradossalmente è molto più concreto l'angelo rispetto alla musa, no? Cioè, è più vicino agli esseri umani l'angelo rispetto alla musa. La musa è proprio... è aria, no? È elucubrazione, se vuoi, no? Volevo sottolinearlo questa cosa che hai già detto tu. L'angelo, invece, anche nella sua iconografia, no? Se vuoi, l'angelo... ah, ok, l'angelo, perfetto. E mi fermo qua, perché poi anche Italia, vocazione, sei interessante. Eh, come forma di concretezza non ci avevo pensato. Non avevo associato la parola concretezza a queste varie... a questo schema. Però, sì, forse fra le due, adesso che mi ci fai pensare, l'angelo è una forma che mi sembra più diretta come ispirazione. La musa è una forma più comunque costruita, in cui la parte di studio è fondamentale. Non che Raffaello non studiasse, chiaro, però come fonte di ispirazione. Sembra che la musa sia un'ispirazione, in un certo modo, colto, possiamo dire, no? Sì, sì. L'angelo è riconoscibile, no? L'angelo è riconoscibile. Ed è anche molto più evocativo, anche dal punto di vista, diciamo, religioso o spirituale. La musa no, la musa no. Infatti l'angelo è più metafisico, la musa è più, diciamo, mentale. Psicologico, psicologico, forse. Psicologico, esattamente, esattamente. È bello anche che ci siamo soffermati da questi due, perché adesso poi passiamo al duende. È qua, è qua. È qua si apre il rischio, è qua si apre il pericolo, è qua si apre il mistero. Perché, appunto, l'angelo e la musa, finora, credo che siano abbastanza chiari come schemi. Il duende, che è quello che è Federico García Lorca, che dà il titolo al libricino, è quello che lui cerca di coltivare come fonte di ispirazione. Dice, intanto, che la grande differenza fra gli altri due è che il duende viene da dentro, non viene da fuori. E lui lo descrive come una sorta di lotta interiore che l'uomo deve intraprendere per far venire fuori questa ispirazione. I due grandi esempi che fa, artistici del duende, lui prende come esempi la corrida e il flamenco. Lui dice, quando c'è... Il flamenco e in generale la musica sono le forme di espressioni... La musica è la forma di espressione in cui forse il duende si esprime in maniera migliore, dice García Lorca, la poesia, no? E dice che il flamenco, anche qui è difficile da descrivere a parole, però in qualche momento avviene qualcosa, mentre una ballerina di flamenco sta ballando, che ti rendi conto è qualcosa che avviene dall'interno, che si muove dall'interno. Anche il colore, poi dopo ne riparliamo di questa cosa qua, il colore, il nero, il rosso, è qualcosa che viene proprio dalle viscere dell'uomo. Il sangue, la carne... Lui ne parla in questi termini, proprio del sangue e della carne. La lotta è fra due, diciamo, soggetti, tra virgolette, no? Forse, non so, per assonanza duende, adesso non so se c'entra qualcosa, però la corrida ovviamente... La corrida ovviamente sì, è fra due soggetti. Anche il flamenco, se vuoi, è fra due soggetti, perché comunque come forma di danza non è solipsista, ok? Sì, questa... Poi magari il secondo soggetto può essere la musica, se vuoi, oppure se c'è il ballerino, può essere anche il ballerino, guarda caso, maschio, no? E femmina, poi magari ci possiamo anche entrare, se vuoi. Beh, visto che hai preso questo... Te lo posso chiedere se... Dimmi. Eh, questo aspetto è fra due o no? Ah, guarda, io ti leggo questo pezzo, ti leggo questo pezzettino qui, che all'interno del libro di Adelphi c'è anche una postfazione di Enrico di Pastena, che dice questo. Se bisogna respingere l'angelo e la musa, non è per abbracciare il duende, ma per lottare contro di esso. La vera lotta è con il duende. Torna a profilarsi la battaglia interiore, che questo è un punto chiave, la battaglia interiore che c'è fra la libertà e disciplina artistica. che per avvicinarci un po' a spiegare una cosa misteriosa, è difficile trovare un punto, però magari qualche altro elemento lo mettiamo, leggiamo poi alcuni dei pezzi di García Lorca diretta, chissà che arriviamo a... Il duende è il toro, non è il torero. Questo... Allora, questo non lo so. Il duende è qualcosa che viene da dentro. Rispetto al toro, rispetto al toro... Interiormente, il toro interiore, no? Il minotauro, eh. Il minotauro. Tant'è vero che è, tant'è vero che è. Un'altra cosa che mi ha sorpreso rispetto ai nostri percorsi dell'ultimo periodo, che lui dice, in realtà in alcuni saggi scritti su questo libretto, fra cui ho preso uno di riferimento che si trova anche in rete, e poi dopo commettiamo nel nostro sito il riferimento a questo saggio, di Luisella Ferrario, che è una professoressa dell'Università di Padova, se non sbaglio, che ha scritto un breve saggio sull'anima mitica del duende, in Federico García Lorca, in cui va a spiegare un po' più nel dettaglio degli aspetti dell'angelo, della muce e del duende. E lui, rispetto a quello che dici tu, sottolinea alcune cose che io adesso metto qui in forma di collage, senza appunto andare troppo dentro. Però dice, un primo aspetto è il duende, io qui ho fatto il disegnino della spirale, no? Perché la spirale si avvicina molto come movimento al movimento del duende, tant'è vero che il flamenco è molto basato sul movimento a spirale, la corrida ha anche il movimento del torero rispetto al tono, no? Quindi il duende è come se percorrere, no? Comunque fa questo tipo di movimento, fa questo tipo di movimento interiore ad ampliare. Lo sai cosa mi viene in mente? Lo sai cosa mi viene in mente? Ho sposto tutto, quindi non lo so, è una sberla. La meditazione cosa la vi passeranno? Quella dove giri su te stesso per minuti, minuti, minuti? Forse ha qualcosa del duende. I dervisci. Esatto. Infatti, i dervisci, lui, l'orca dice questo, che è l'Oriente più vicino al duende, all'Occidente, tant'è vero che appunto la musica e la danza, quindi il corpo ha un aspetto importantissimo rispetto al duende, cosa che forse nell'angelo e nella musa non è così, cioè non è così importante il corpo. Nel duende è fondamentale il corpo. Così come nella corrida e nel flamenco, che sono tutte corpo, assolutamente, sono tutte corpo. E questa è un'altra differenza bella che abbiamo tirato fuori. Rispetto all'idea della spirale, è immediato associarla al labirinto, secondo me. Anche questa è una mia lettura. Però la corrida, la tauromachia, che cos'è se non appunto l'uccisione del toro, del minotauro mitico, viene da quella zona lì, no? E appunto anche la spirale si avvicina moltissimo come idea a quella del labirinto, no? Il labirinto, nel momento in cui esci, lo uccidi. Nel momento in cui esci, lo uccidi. Per cui è il toro, se vuoi, anche quello, no? Affondi proprio, no? La spada. Il toro... Nel labirinto. Il toro è un personaggio chiave nel duende, di sicuro. Il toro è quindi... E qui viene fuori già un aspetto... Viene fuori un aspetto tosto del duende. Cioè è quello del sacrificio. Viene spiegato bene nel saggio l'anima mitica del duende, questo qui che... Aspetta che... Adesso vediamo se riesco a segnare qualcosa. Prendo il pennello. In questo saggio qui... Se scrive... Se riesco a scrivere... Aspetta, eh? Ci provo. In questo saggio, dicevo, di... Luisella Ferrario, ecco qui. L'anima mitica del duende. Se uno ha voglia, subito dopo cerca su internet. Lo trova, se no lo mettiamo nel nostro sito. Lo spiega bene questa cosa. Del sacrificio. Sacrificio come... Che... Non ci avevo mai pensato bene a questa cosa. È banale. Però il sacrificio vuol dire rendere sacra qualcosa. Cioè fare un sacrificio vuol dire rendere sacra qualcosa. E Luisella Ferrario parte da... Spiega questa cosa partendo dalla parola duende. Che è un suono affascinante, misterioso. La parola del duende. Non solo, eh? Non solo, eh? Nel sacrificio c'è anche l'offerta. Nel sacrificio c'è anche l'offerta. E quindi è qualcosa... Certo, è qualcosa che da te va verso qualcos'altro. Tutto torna, eh? A me torna tutto. Eh, vediamo un po'. Andiamo ancora un po' più avanti in questo viaggio pericoloso. Vediamo dove arriviamo. Lei, Luisella Ferrario, dice... Parte dall'etimologia della parola. Fa una ricerca etimologica. Da dove viene questa parola duende? Che non è chiarissimo, eh? Parola affascinante. E lei dice... L'etimo, andando a ricercare nei testi del Seicento, viene da questo duende casa. E che ha due possibilità di interpretazione. La prima è... Senza entrare troppo dentro la questione etimologica, perché non ci interessa. E qui ho solo dei punti che ci interessano. Va sulla parte mitica, no? Significa... Rappresenta una lotta mitica. Io, quando ho letto queste cose qui, mi è venuto in mente subito il daimon di... Il demonietto, il daimon di Hillman, no? La lotta interiore che si deve sviluppare. Il dionisiago, che mi sembra anche l'orca ne parla di questo. Dioniso come il nato due volte. E Luisella Ferrario dice questo, rispetto a questa interpretazione mitica, no? Dice, rispetto al sacrificio... È chiaro il sacrificio, no? Come è collegato al duende, l'abbiamo detto abbastanza bene, no? Lei dice... Ci sono due fasi. Il sacrificio dell'io è la rinascita. Quindi il duende presuppone questo. Un sacrificio dell'io è la rinascita. Quest'ultima si esprime nel duende sempre attraverso le arti. La via per la vita passa attraverso la morte dell'io. Così ogni essere spirituale può ottenere la vita soltanto a prezzo di questa morte. Ed è questo, il punto centrale del duende, è il più forte come concetto, secondo me. Di questa anima... C'è tanto di oriente in quest'ultima cosa. Cioè ci sono i Veda, c'è un sacco di oriente. Anche rispetto a quello che dicevi prima tu della meditazione. È un concetto che è proprio lì di fianco. È la morte dell'io, è la rinascita di un altro io diverso. Ecco, vedi, pensa ad esempio... Abbiamo parlato un po' con Gianfranco Bertagli nella intervista l'altra sera. Un pochino di questo. Aggiungo io, le danze di Gurgie, ad esempio. Eh sì, eh sì. Dove lui... Cioè questi qui li lasciava ballare finché non cascavano completamente, addirittura anche dal teatro, cioè dal palco del teatro. E cadevano, non si facevano niente perché erano completamente in trance, quindi il corpo era protetto in questo senso. Però vedi, più morte di quella, assolutamente, non credo che ci sia. No, in ambito, diciamo, di meditazione. Ma ce ne sono un... Ma anche lo sciamanismo è così. Sì, sì. Anche lo sciamano, comunque. Adesso qua ci infiliamo in territori molto, molto ampi, però la morte c'è. Come spunto però lasciamo, ci sta lasciare delle parti aperte in questo boom che facciamo. Poi si lasciano lì aperte e poi magari, chissà, se qualcuno dei nostri ascoltatori li ha già percorsi, li vorrà percorrere, le percorreremo noi, chissà. Però la cosa che sottolineo, di questo che ho appena letto, cioè che questa morte dell'io è rinascita, lo sottolineo, la rinascita è sempre in chiave artistica. Quando avviene la rinascita c'è sempre qualcosa a che fare con l'arte, per quello che, inteso in senso ampio, però come forma creativa dell'essere, inteso in questo senso qua. L'altra possibile interpretazione etimologica del Duen de Casa, in spagnolo, sarebbe un folletto che abita in casa. Leggendo la descrizione non può non far venire in mente i tanti folletti che abbiamo anche in Italia, che abbiamo parlato tanto con Eraldo Baldini di questo, che si chiamano il monacello e tanti posti diversi in Italia, che hanno un nome diverso. Quello folletto un po' dispettoso che abita la casa è il Duen de. E lei dice... vuoi dire qualcosa? Non c'entra niente, però il tuo disegno del folletto, a me ricordo una strega di profilo, il viso di una strega di profilo. Pensa il mento, il nasone e il cappello... Il cappello ti sta, se voglio un po'. Può essere, può essere. Mi sono concentrato sul cappello, il resto l'ho fatto un po' così come veniva. Però la strega ci può stare. Gli facciamo la scopa allora, dai. Esatto. Su questa cosa qui, Luisella Ferrario lascia un punto aperto e lo lascio poi anch'io perché è difficile da sviluppare. Cioè dice, e poi ci spostiamo verso la parte destra di questa mappa, dice, ma perché il folletto è della casa, quindi è un folletto che abita dentro casa, questo qui, non abita da qualche altra parte, è dentro casa. Dice, ma perché la casa è così associata alla morte? È strano, la casa dovrebbe essere il luogo di protezione, dovrebbe essere il nido. Eppure dentro questa teoria alla fine fai il giro e va a finire che la casa è vicina alla morte nella teoria del duente. Questa cosa qui la lascio un po' aperta. Lei nel saggio un pochino lo spiega e perché va a prendere alcuni simboli della casa e cerca di spiegarlo. Però qui c'è l'altro aspetto che volevo, se lo trovo, prendere quello che dice... Però ci sta, scusami, ci sta assolutamente come involucro come bara, se vuoi, la casa, no? Ecco, adesso dico una stronzata. Non esiste il gioco della corrida da tavolo. Ok? Lo devi fare fuori, devi comunque uscire. Adesso non lo so, però può darsi che se ripercorriamo i nostri ricordi nella nostra vita, le trasformazioni che abbiamo vissuto, provato e soprattutto messe in atto, dubito che siano successe in casa, sinceramente. Forse eravamo fuori, eravamo altrove. Forse, non lo so, mettiamola lì. Guarda, per me rimane una parte un po' aperta. Quello che dice lei rispetto a questo che ha appena detto, te lo leggo, perché ha anche un valore poetico, lei dice Il duende è padrone di casa, proprio come la morte è padrone di casa della vita stessa. Eh sì. Questo non aggiungo altro, ecco. No, non aggiungiamo altro. Certo, sì. Però è una bella contraddizione il fatto che il luogo che dovrebbe essere il più protetto in cui ci sentiamo... è una bella contraddizione anche rispetto alla situazione che abbiamo passato, abbiamo vissuto. È un paradosso, è molto di più. È un paradosso. È un paradosso. È come... esatto. È come un impermeabile che ti protegge, tra virgolette, dalla pioggia. Però ti protegge anche dalla bella sensazione di avere l'acqua che ti scende addosso, se vuoi, no? Quindi a questa doppia, se vuoi... Ci stanno tutte e due, dipende poi uno. Però per fortuna possiamo uscire di casa o toglierci l'impermeabile. Eh sì. Guarda, Danilo, rispetto al duende, adesso entriamo un po' nel duende usando proprio le parole di Federico García Lorca, che sono... Lui si utilizza in questo breve esagio un linguaggio estremamente poetico e quindi in cui spiega e non spiega, indica, misterioso, e per esempio rispetto al duende dice... Riporto due o tre frasi. Il duende è un potere, non un agire. È un lottare, non un pensare. Ho sentito dire da un vecchio maestro di chitarra il duende monta dentro dalla punta dei piedi, dice Federico García Lorca. Oppure dice... Per cercare il duende... E' questa frase iniziale commesso. Per cercare il duende non c'è mappa, né esercizio. Si sa solo che brucia il sangue come un tropico di vetri, che è stenua, che respinge tutta la dolce geometria appesa. dice Federico García Lorca. È commovente. Molto, molto. Infatti il daimon gli fa una pippa, cioè rispetto a... Il daimon, l'abbiamo detto anche prima, fuori onda, il daimon è un piccirillo, è molto più buono, molto più garbato. Il duende qua, ti spiezzo in due, questo qui... Sì, è pericoloso, è pericoloso. Molto pericoloso. E lo sai cosa? C'è una componente molto forte e sensuale anche nel duende. Esattamente come nel flamenco, esattamente come nella corrida e tutto quello che è, diciamo, latino... latino e latinoamericano. Nel piccolo saggio che c'è, la postfazione che c'è nel libro, dice, rispetto alla musica, Enrico Di Pastena dice questo. Billy Holiday e Tennessee Williams ce l'avevano. Ella Fritzgerald quasi, ma non proprio. Mice Davis forse non aveva altro. Eh sì, chiaro, 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 chiaro. Ho capito cos'è, ho capito cos'è. Ti leggo altri due pezzi di Federico García Lorca perché così ci navighiamo un po' nella poesia che non serve aggiungere altro. Indica in maniera bellissima. Lui dice, dov'è il duende? Ancora dice, dall'arco vuoto entra un vento mentale che soffia con insistenza sulle teste dei morti in cerca di nuovi paesaggi e di accenti ignorati. Un vento che odora di saliva di bimbo, di erba, pesta, è di velo di medusa e annuncia il costante battesimo delle cose appena create, dice Federico García Lorca. E poi l'ultimo pezzo che leggo, poi se vogliamo ne parliamo anche un po' così in maniera libera, che leggo da questo prezioso libretto che vi consiglio. Costa poco, è densissimo ed è un bel viaggio se avete voglia di rischiare un po'. E dice così, il duende non arriva se non vede una possibilità di morte, se non sa di dover girare intorno alla sua casa, se non ha la certezza di dover cullare quei rami che tutti portiamo, che non hanno, che non avranno mai consolazione. Insomma, questo è il duende. Sì, è un mito. Pensa, non so, agli arconti, no? Pensa, è assolutamente molto potente, potentissimo, davvero. Sparisce tutto il resto, eh? Arriva il duende. La cosa che a me ha sorpreso e che è il motivo per cui poi ho letto questo libro e poi ho approfondito nel saggio è che lui usa come parola per introdurre il duende il gioco, eh? Cioè, quindi, il gioco è una chiave per il duende. Anche questo sembra un paradosso, anche questo può apparire un paradosso, per rispetto a tutto quello che abbiamo detto. Però, lui lo chiama gioco e tiro del duende e come dicevamo all'inizio ci tiene che è la versione definitiva e mi raccomando se lo comprate il libretto ci sono due versioni, quella di Adelphi e l'ultima, cioè, in cui lui mette prima il gioco e dopo la teoria. Alle prime conferenze era capovolto il titolo, era teoria e gioco del duende. Poi lui cambia. Di questa cosa se ti ricordi ne abbiamo parlato anche con Raffaele Salinari in qualche intervista. Lui a un certo punto accenna questa cosa del duende. Raffaele Salinari secondo me è uno delle persone che ha approfondito meglio nei suoi saggi questa teoria qua perché in tutti i suoi saggi sull'altalena, tuffarsi, è spiegata, è approfondita la teoria del duende di García Lorca che rimane affascinante secondo me. Io ecco, secondo me può servire lo schema che abbiamo fatto all'inizio già ti dà una bella chiave di lettura. Io dopo che l'ho letto, dopo che l'ho letto, dopo che ci ho pensato un po' su, ti dà una chiave di lettura artistica, cioè quando hai a che fare con un'arte di un certo livello ti dà una chiave di lettura. Da dove viene? Da dove viene quell'arte lì? Quando ti trovi davanti a sentire un pezzo di un certo livello oppure a vedere un quadro o qualsiasi altra cosa, ti può dare una chiave di lettura importante questa qui. Da dove è che viene? Viene dall'angelo, una ispirazione di quel tipo, viene dalla musa oppure il duende, una lotta interiore. E García Lorca dice ci sono dei quadri in cui l'ispirazione è chiaramente un'ispirazione dall'alto, da una vocazione, in cui però dentro si vede una lotta, una sofferenza, ne cita anche alcuni, adesso dovrei andare a riprenderli, non mi ricordo, però li potete trovare. E lì è un misto fra l'angelo e il duende, no? La vocazione è quella lotta interiore. è bello che la vocazione sia associata anche all'angelo come cosa, cioè proprio se vogliamo riassumere come parola, l'angelo è una vocazione, la musa è uno studio, secondo me, di un livello alto, però è uno studio, una sintesi, se vogliamo, e il duende è una lotta, è una lotta vitale. Pensa alla parola vocazione con la voce, no? Quindi l'angelo che appare in sogno ti parla, no? Lo fa, lo fa, lo fa con le parole, con il verbo, vocando, diciamo così, vocazionando, ok? La musa invece è l'aperaria, chissà, chissà dove, chissà da dove, chissà da dove arriva, però necessità di tanto, sicuramente studio, ecco, sicuramente studio. Il duende è il suono della piena, è il suono della piena che sta arrivando, è il suono del terremoto, è il suono, non il terremoto stesso, è il suono che spazza via tutto, uccide tutto e poi da lì rinasce qualcos'altro. Io lo riesco a sintetizzare un po' così, in modo malandrato, per l'amor di Dio. Ci sta, sono, siccome in tutte le teorie finora che abbiamo visto, in tutte le, le mappe a triangolo, secondo me manca sempre un punto, anche qua, volendo manca un punto, perché questo è un, lui parla di un'ispirazione alta, poi dopo ci può essere anche un altro punto, perché non è detto che la vocazione venga sempre, secondo me, venga sempre dall'alto, non è detto che ci sia dietro una musa, ma può venire anche da altre zone, ecco, diciamo così, che non è una buona vocazione, una buona ispirazione, ci può essere anche una cattiva ispirazione. A proposito di piena, c'è un vecchio spettacolo di Marco Paolini, Bayont, non so se l'hai visto, credo che sia su YouTube, uno spettacolo teatrale, lui è meraviglioso assolutamente, è quello che, ecco dove è arrivata l'associazione mentale, perché lui descrive, descrive in dieci minuti esattamente quello che si sente quando poi crolla la diga e sente, parla proprio di odore, di suono, di un vento fortissimo, che è prima che arrivi proprio l'acqua, molto prima, è un'essenzione incredibile, guardatevi lo spettacolo, credo che sia su YouTube anche, Marco Paolini, Bayont, ecco per me il duenda è quello, poi magari se qualcuno guarderà lo spettacolo dirà sì sì, è proprio quello, assolutamente quello. Bene Damiano, speriamo di aver dato qualche, non solo spunto, ma qualche percorso, qualche spinta, qualche indicazione, qualche spinta, ricordiamo sempre che siamo partiti esplodendo questo libro qua, Gioco e teoria del duende di Federico Garcia Lorca, a Delphi, biblioteca minima, 7 euro costa, quindi, se volete, spendibilissimi, se volete farvi questo viaggio rischioso, cercatelo, se volete provare il nostro laboratorio di gioco semiserio per la trasformazione del mondo, trovate il link qui sotto e lì vi divertite a trasformare il proprio mondo, ecco. Noi, per il prossimo libro, io ho già qualche idea, perché secondo me può andare sulla zona, in questo periodo in cui approfondendo il gioco e approfondendo tantissimo la creatività, perché il gioco l'abbiamo messo di fianco la creatività, viaggiano quasi insieme gioco e creatività, il gioco, il laboratorio del gioco è alla fine un modo per tirare fuori una certa creatività profonda, però mi sono reso conto che la creatività viene spesso maltrattata, cioè viene maltrattata nel senso che viene considerata una cosa così, dai, lui è un creativo e quindi è uno così che non non c'ha pensieri, no? In realtà... L'abbiamo detto mille volte, l'abbiamo detto mille volte, cioè si scambia la creatività come il grafico che si mette lì e fa i loghi, ecco, è questo, quindi viene incasellata, viene in un certo come se fosse appunto una, non so, degli animali in un camion, ecco, o dei polli in batteria, la creatività invece è tutt'altro. E quindi sarebbe bello approfondire questo aspetto qui che già oggi insomma è stato di un certo peso questo libretto qui, però c'è un altro che il prossimo mi piacerebbe approfondire che non dico ancora il titolo perché chissà poi magari cambiamo idea, che spiega le origini mitiche, quindi parla dei miti della creatività, perché quasi tutti i miti d'origine in tutti i popoli sono miti di creatività perché raccontano come nasce un mondo, come nasce il mondo e quindi andando lì ci sono grandi studiosi, grandi antropologi che li hanno studiati e andando lì si può tirare fuori qualche idea un po' più profonda rispetto alla creatività, ecco, quindi può darsi che andremo in quella zona, vediamo un po'. Ce ne sono un paio di possibilità. Sicuramente esistono e sono delle buone fonti dove andare a bere perché si beve anche la creatività. Eh sì, però se pensi e poi chiudiamo su questa cosa qui, se pensi come innesco ai miti di creazione da quello nostro da un mito cristiano a tanti altri, lì trovi tanti indizi su come può funzionare la creazione, cosa c'è sotto, cosa smuove, no? Ci sono tanti miti che sono cruenti, i miti di creazione sono cruenti, pensiamo per esempio al mito greco in cui c'è l'incesto, viene tagliato il membro da lì, dal membro di Urano viene fuori, cioè anche lì l'idea del sacrificio dietro la creazione è presente. Nel mito cristiano, il mito cristiano, porca miseria, è densissimo di questa, di morte e rinascita, no? Quindi proveremo a fare una serie di salti probabilmente lì, adesso vediamo, lì o in un'altra zona, però quello mi piacerebbe approfondirlo, siccome testi ne abbiamo trovati, probabilmente lo tireremo fuori dal cilindro fra un po'. Appena prossima puntata di Boom. Esplodiamo un libro, esatto. Ciao Damiano e ciao a tutti, a presto. Ciao a tutti, grazie. Abbracci. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.